Il Vivi Città, oggi la 38esima edizione che si farà domani in 34 città italiane parte con la corsa dei diritti, diritti inzenzolato, di tanti diritti, dalla pace che noi conosciamo e sappiamo qual è la difficoltà in questo momento per quanto riguarda la guerra in Ucraina per quanto riguarda i diritti sulla salute e quindi farsi una bella corsa domani dove auspichiamo dopo due anni di fermo per quanto riguarda il Covid auspichiamo che ci sia la partecipazione da parte di tutti coloro quale famiglie, genitori e cittadini che possono usufruire di quelle che sono le bellezze delle vie cittadine altri diritti pari opportunità perché noi intendiamo anche dare la possibilità a tutte le donne e anche alle interculturalità e quindi anche a tutte le persone di cittadini non italiane avremo anche la presenza negli altri giorni nelle cacceri con la denominazione Vivi Città, porte aperte in Sicilia grazie a un progetto dove siamo capofila come WISP Sicilia un progetto che si chiama Progetto Giocare per Diritti Siamo entrati in otto istituti penitenziari in cui dal progetto stiamo cercando di creare delle aree gioche dove permetteranno ai genitori e ai figli di incontrarsi e questo ci ha perso la possibilità affinché nei sezzi comitati, nei sezzi istituti penitenziari tipo Giarra, Catania, Messina, Enna, Ragusa, Catanesetta, Grigento Mostriamo una maglietta per Vivi Città? Questa è la maglietta che domani materialmente l'organizzazione darà ai partecipanti e sarà anche un modo come un altro per fare in modo che tutte le persone partecipanti possano essere presenti e abbiano una visibilità uguale per tutti